Dopo la decisione presa dall'Asle di Teramo di far svolgere i medici di famiglia il servizio di guardia medica turistica sulla costa teramana per quest'estate appena iniziata, è arrivata la replica di Asso Turismo Abruzzo che chiede un immediato ripristino del servizio. Alla base della decisione da parte dell'azienda sanitaria c'è la mancanza di personale, visto che per attivare il servizio su tutta la costa c'è bisogno di almeno otto medici. Siamo in piena estate, abbiamo saputo poche ore fa, pochissimi giorni fa che non ci sarà il servizio di guardia medica turistica nella provincia di Teramo. Allora, questo aspetto io non lo voglio credere, faccio un appello alla Asle affinché faccio un estremo sforzo per risolvere questa situazione. Sarebbe un ritornare indietro di decenni da parte della costa teramana, dare un gravissimo disservizio che tra l'altro non è più nemmeno spiegabile ai turisti. Dunque l'assistenza sanitaria per i cittadini che vanno in vacanza in una delle sette sorelle della costa teramana non sarà più organizzata dalla Asle nelle sue sedi costiere di medicina territoriale, come avveniva fino all'anno scorso. Il turista che avrà bisogno di un dottore dovrà contattare uno dei medici di base del comune dove è in vacanza. Recapiti e orari di apertura dei vari studi sono stati pubblicati sui siti dei comuni costieri. Pensate ad una signora anziana che magari arriva in treno e invece di cercare la guardia medica del posto deve trovare gli orari giusti con un medico competente che sta magari in una frazione di un paese. Come lo trova? Non lo trova, vuol dire che gli albergatori stessi dovranno farsi carico di questi oppure che il pronto soccorso di Giulianova o di altri saranno intasatissimi. In ogni caso è un disservizio che pagheremo sicuramente dal punto di vista turistico. Io però ripeto, non voglio crederci, sono assolutamente certo che la Asle con un estremo sforzo, magari con l'aiuto dei comuni che certamente daranno una mano, forse potrà mettere in piedi questo servizio magari con una settimana di ritardo, ma è un qualcosa che va affrontato.